È incredibile che Metro News One ti inoltre è ancora la posta dei fan. Infatti, sono andata via quattro mesi fa. Ehi, hai molti più ammiratori di quel che pensavo. Di cui solo il 60% circa sono Galeotti. Non capisco, che cose si aspettano da me? Ho superato da un bel pezzo la fase degli amici di Penna Galeotti. Insomma, sveglia, non ho più 18 anni ormai. Ah, ah, c'è quella del lotto? Mi fanno così pena quelle ragazze. Il lotto è il gradino più basso della carriera televisiva. Aspetta, sta a vedere. Ho inventato un giochetto che vi farà divertire. I numeri dell'otto di oggi sono... 19 Gli anni che avevi quando un fotografo di Vogue ti ha scoperto in un fast food e ti ha promesso di pubblicare le tue foto. 53 Foto secche che ti ha scattato prima che tu scoprissi che non aveva alcun aggancio con Vogue. 22 Cioè l'età che dichiari di avere. 31 Come gli anni che hai realmente. 45 Minuti che impiegherei per farti salire su un tazzo, spogliare e entrare nelle mie jacuzzi. E il super numero della cinquina è... Quello che facciamo io e te una volta fuori dalla jacuzzi. Troppo forte! No c'è! Bravo! Se ti è piaciuto questo video allora iscriviti al canale e troverai tanti video qui 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 ma soprattutto non dimenticare di lasciare un like. Grazie a tutti!